Sì, fare di più perché si isolavano e tu venivi sconfitto, neanche buttavo fuori, sconfitto. Mentre tu volevi vedere cosa si poteva raggiungere per poter essere utili. Loro, egli erano d'accordo con tutti, loro egli avevano relazioni con tutti, capivano? E ti fa un esempio. E mi hanno chiamato la confederazione, subito dopo la liberazione. Un giorno Rossi mi chiama e mi dice, so che voi avete due motocilette, perché avrei bisogno di una motociletta. E si rivernicia, eh, per i nostri che vanno a diffondere l'unità. C'era un compagno lì, che non conoscevo insieme a lui. Non glielo volevo dire, capito? Ma... e sentivo per istinto. Mi schia e dico, vabbè, baita, e di invia, eccetera, eccetera. E ci sta questo compagno e te lo domanda a lui. E lui ti porta da un altro e ti dà la motociletta. Vabbè, insomma, e mi richiama dopo qualche ora e mi dice, Sai Gianni, che le è arrivata prima la polizia e l'ha semestrata? Ah, le stava, finora lì, quando le è stato detto in questa stanza, le è sparita. Dice, ho capito, ma te tu c'hai quell'altra. O dove la vuoi quell'altra? Ma dove la vuoi? La vuoi qui sotto? La vuoi qui sotto la federazione? Dice, no, dice, ma perché tu te la pigli? No, la vuoi qui sotto. Se la vuoi qui sotto, io se la farò avere qui sotto. Se no, è un tappiglia nuda. Insomma, c'era una situazione di questo genere nel partito, capito? Ed era buerellato. Da chi non lo so, e non te lo so nemmeno dire. E non te lo so dire che gioco volevano fare. E si ragiona male, capito? E si ragiona male perché non si è mai saputo che gioco volevano fare questa gente. E non si è mai capito se non erano d'accordo con la polizia, se non erano d'accordo. E non lo so. E non te lo so dire. Certa gente, e non tu sai mai, e te tu dici perché non avete reagito. O perché non avete ricominciato. E fare questo che tu dici te, e sarebbe stato difficile. Anche perché avresti creato un'insorrezione di pochi gatti contro l'apparato dello Stato. Questi, e li erano aggiornati. Preparai bene. E per dirti tutto, io non c'era neanche la voglia di far questo. Io per esempio, sono presidente provinciale dell'Ampi. E ti dico la verità. Quando tu vedi partiti che dovrebbero essere di sinistra, non si presentano insieme contro un partito fascista, e contro un altro partito quasi fascista, ed è quello di Berlusconi, dico, ma ragazzi, la conosciamo la teoria e la realtà dell'avversario. L'avversario si deve dividere. L'avversario, non noi. Dobbiamo dividere noi l'avversario, per batterlo meglio. E ci si divide noi. Almeno in questa battaglia, e dobbiamo essere uniti. Dice, non servirà a nulla, e non lo so. E non lo so se servirà a nulla. Certo, se ci si presenta divisi, gli andrà peggio, perché vincono loro, e avremo per cinque anni al governo i fascisti. Io dico che è peggio. Secondo me, è peggio. Secondo me, è peggio. La sconfitta militare del fascismo impose alla classe dirigente italiana, ora totalmente subalterna al capitale nordamericano, la scelta di un altro amministratore delegato. La democrazia cristiana è stata, nelle forme e ancor più nella sostanza, la forza politica che assunse questo incarico dall'immediato dopoguerra sino ai primi anni 90. È in questo contesto nazionale ed internazionale che la DC, garantendo l'applicazione in Italia della dottrina della sicurezza nazionale, implementata a livello mondiale dai governi nordamericani, ha ridotto il nostro paese ad una nazione a sovranità limitata, violando conseguentemente le leggi e la Costituzione italiane. violazioni spesso perpetrate sanguinosamente con omicidi e stragi, le stragi atlantiche di Stato. Violazioni sempre perpetrate attraverso l'azione degli apparati illegali dello Stato, l'organizzazione O, Stella Alpina, Gladio. Oggi, con il mercato globale che definisce ed omologa in prima persona i modelli politici compatibili con il capitalismo, gli aspiranti amministratori delegati sono cresciuti di numero. Questa concorrenza tra amministratori ha portato paradossalmente alla riscrittura condivisa di un'altra resistenza, immaginaria e santificabile, nella quale c'è posto per tutti. Per tutti, con la esclusione di quelli che hanno indicato come all'interno della resistenza fosse presente una fondamentale e decisiva componente di classe che assunse la lotta armata non per eliminare i cattivi, i fascisti, ma le cause che li avevano prodotti. Questo revisionismo storico è riuscito a proiettare la resistenza verso le nebbie di un passato percepito come remoto, eludendo così la necessità di spiegare alle generazioni che sono venute dopo le cause e gli obiettivi che fecero decidere decine e decine di migliaia di giovani operai e contadini dopo vent'anni di fascismo ad iniziare una difficile e spietata lotta contro di esso, quando era chiaro che la liberazione dal fascismo sarebbe comunque arrivata, senza rischiare nulla al rimorchio degli alleati. Ed è in questa spiegazione negata che permane l'attualità della resistenza. La resistenza ha provato e le interviste di Gianni e di Focco sono un contributo vivo per ricordarlo che le classi subalterne sono disposte ad entrare in lotta quando si tratti di realizzare sulla base delle contraddizioni del capitalismo stesso un altro mondo possibile, concretamente democratico ed antitetico a quello capitalista. Oggi la lettura dialettica della globalizzazione ci mostra come in grandi percentuali delle classi subalterne vengono indotte categorie politico-culturali che risultano compatibili con quelle che hanno prodotto il fascismo nel nostro paese ed in Europa. Ed è certo che un nuovo fascismo può tornare. Un fascismo che non sarà certo fotocopiato dal vecchio ma che avrà la stessa carica di oppressione e di sfruttamento su chi lavora. Dimenticare significa perdere l'eredità di una lotta che è ancora inconclusa. Non dimenticare obbliga a comprendere a smascherare a continuare quella lotta. Per combattere questo nuovo fascismo non ci saranno i vostri nonni o i padri dei vostri nonni. Ad affrontarlo toccherà a voi. Marciavamo con l'anima in spalla e le preghe per l'assù ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà non sapevo fare il tuo nome e anche il mio poterlo dire il tuo nome è di battagliari e io ero San Gocca. Marciavamo con l'anima in spalla a morire, ma della morte noi mai parlavamo, parlavamo del futuro, se il destino ci allontana, il ricordo di quei giorni, sempre unifici, però davanti. Il ricordo di chei giorni, sempre unifici, però davanti. Il ricordo di chei giorni, sempre unifici, però davanti. Il ricordo di chei giorni, sempre unifici, ma della morte noi mai parlavamo, a tutti i giorni, sempre unifici, però davanti. Il ricordo di chei giorni, sempre unifici, che sei diventato, Grazie per la visione!